Il 28 febbraio scorso, nel corso di un incontro per saluti istituzionali e presentazione delle attività del coordinamento Crotone-Imprese, al signor questore di Crotone, Marco Giambra, si è avviata una prima interlocuzione sui temi che riguardano le piccole e medie imprese della provincia di Crotone. La riunione ha visto la partecipazione del coordinatore di Crotone-Imprese, Alfio Pugliese, del direttore generale FEN Imprese nazionale, Andrè Esposito. Durante l'incontro sono stati affrontati diversi temi di grande rilevanza per il territorio crotonese. In particolare si è discusso approfonditamente sulla sicurezza con un focus specifico su questioni cruciali come l'usura ed il racket. Il coordinatore di Crotone-Imprese, Alfio Pugliese, ha sottolineato l'importanza di affiancare gli imprenditori che decidono di denunciare al fine di migliorare le condizioni territoriali e contrastare fenomeni di illegalità diffusa, proponendo l'avvio di sportelli di ascolto per gli imprenditori vittime di attività criminali di vario genere in tutte le sedi delle associazioni che fanno parte del coordinamento Crotone-Imprese. L'incontro ha confermato l'impegno delle parti coinvolte nel promuovere un clima di legalità e sicurezza. Pertanto si è ribadita la necessità di collaborazione tra le istituzioni, le imprese e le forze dell'ordine per contrastare efficacemente ogni forma di criminalità. Inoltre si è dedicato ampio spazio allo sviluppo del territorio di Crotone, con particolare attenzione al tema della bonifica e ai possibili appetiti della criminalità organizzata. Gli intervenuti hanno concordato sull'importanza di affrontare e risolvere le problematiche legate a questo settore, con lo scopo di garantire uno sviluppo sostenibile per essere attrattori di nuovi investimenti del nostro territorio, già profondamente provato nel corso degli anni da diverse crisi. Il questore Marco Giambra ha assicurato il suo impegno continuativo nella gestione e la risoluzione delle questioni legate alla sicurezza della comunità crotonese, confermando la collaborazione sinergica con le parti coinvolte.